Una novità che riguarda gli scavi archeologici preventivi che sono stati eseguiti sotto il controllo della sovrintendenza. Che cosa è emerso? I frati insieme alla sovrintendenza hanno disposto uno scavo appunto preventivo per verificare che sotto l'impronta del nuovo monastero non ci siano stati reperti archeologici degni di rilevanza e in realtà hanno scoperto delle fosse silos, cioè delle fosse scavate nell'arenaria del Monte Giove sotto la superficie del piano di campagna che servivano in antichità per deporre e conservare i derrati alimentari. Probabilmente erano a servizio di una comunità monastica che si era insediata in quella zona e che è stata abbandonata tra il X e il XII secolo, quindi intorno al 1100. Questa è una scoperta, io credo, molto importante che tra le altre cose conferma quello che abbiamo sempre detto che l'intorno di Monte Giove è sempre stato dedito alle attività di culto. Quindi non sarebbe una novità quello del ritorno dei frati trappisti. In questo momento il Consiglio Comunale sta così trattando della variante per l'insediamento dei frati. Qual è stata l'idea di avvalorare questo provvedimento? Beh, un'idea che parte da lontano, dobbiamo dirlo anche per correttezza, perché nel 2014, dopo aver chiesto il permesso a Sua Eccellenza il Vescovo di allora Armando Trasarti, che concesse appunto il trasferimento dell'intera comunità monastica di Frattocchi, ne consentiva anche l'edificazione e ovviamente i frati, la comunità, si è rivolta al Comune di Fano, che già nel 2014, insieme alla sovrintendenza, aveva valutato questo insediamento come positivo, appunto che andava a rafforzare il valore di quell'area. È stato realizzato un progetto che si inserisce bene in una piccola valletta sul retro dell'ermo di Montegiove e che si apre su Magliano in maniera tale che potesse appunto prevedere l'edificazione di un nuovo monastero che ha un chiostro di 45 metri per 45 metri e attorno è stato costruito questo monastero secondo le regole benedettine. Il lavoro che loro produrranno sarà quello di conservare e curare l'ambiente, la natura, perché saranno dediti alla coltivazione. Non faranno birra come i trappisti sono noti nel nord Europa per fare birra. Loro non faranno birra ovviamente, si dedicheranno a delle culture più autoctone. Qual è stata l'input che ha fatto sì che in una zona vincolata come quella di Montegiove che ha voluto però autorizzare questo insediamento? Costruiscono un edificio, è vero, ma conservano e curano l'ambiente sottraendo fra l'altro una parte di quell'area al degrado in cui era purtroppo caduta. In questo i monaci probabilmente ci aiuteranno.